In questo video parleremo di composizione fotografica, ed in particolare modo come il fotografo possa migliorare le sue capacità di composizione prendendo spunto da alcune teorie psicologiche e fisiologiche chiamate teorie di Gestalt. Questa teoria psicologica è nata all'incirca negli anni 20 del 1900 e sviluppa un'idea che possiamo semplicemente definire come l'insieme di un qualcosa è più importante delle singole parti. Il nostro cervello è in grado di visualizzare una scena o comprendere un argomento nelle sue interezza applicando determinati meccanismi molto particolari che ne permettono di classificare gli elementi e comprendere il significato nel suo complesso. Con questo non significa assolutamente che dobbiamo diventare filosofi o psicologi e leggere trattati di psicologia. Semplicemente conoscendo alcuni di questi argomenti possiamo decidere se possono esserci o meno utili a noi fotografi in fase di scatto di una fotografia. Ricordati sempre che la fotografia non è uno sport passivo in cui essere degli spettatori. Tu hai in mano la macchina fotografica e sei tu che decidi l'esposizione e la composizione quindi tutto quello che rientra all'interno della tua fotografia nel tuo fotogramma deve essere deliberato deve essere una tua scelta e di conseguenza avere la possibilità di avere degli strumenti in più per riuscire a comunicare il tuo messaggio in maniera efficace è sicuramente un plus nel tuo percorso di fotografo. La teoria di Gestalt parla di tantissime cose e sviluppa tantissime leggi secondo cui si suppone che il nostro cervello funzioni. È logico che non tutte queste sono facilmente applicabili in ogni campo. Comunque molte di queste vengono utilizzate tantissimo in ambito artistico specialmente nel design e nel design di packaging o di loghi. Tantissimi loghi sfruttano alcune di queste regole perché riescono a comunicare il loro messaggio in maniera super efficace. E anche noi fotografi perché no possiamo utilizzarle. Non tutte queste regole funzionano perfettamente o sono facilmente trasponibili sulla fotografia. Di conseguenza ti parlerò un pochino della mia esperienza e te ne citerò alcune di queste e ti farò vedere soprattutto tanti esempi in cui alcune di queste trovano riscontro. Non vuol dire assolutamente che anche tu le utilizzerai in futuro però semplicemente conoscerle ti aiuterà a immaginartele, a iniziare a pensarci e a ragionare se nel tuo contesto particolare e nella tua volontà di quel momento le vuoi applicare o meno. Una prima regola di Gestalt che possiamo andare a vedere direttamente applicata alla fotografia è la cosiddetta regola della chiusura, ovvero come il nostro cervello è in grado immediatamente di riconoscere degli schemi particolari come ad esempio delle figure geometriche anche quando questi non ci sono realmente oppure sono molto stilizzati o soprattutto incompleti. Per fare un esempio guardiamo questa figura che è apparsa sullo schermo. Possiamo riconoscere immediatamente tutti quanti un cerchio, anche quando in realtà abbiamo semplicemente un insieme di segmenti curviline e spezzati, ma ricordano assolutamente un cerchio e noi guardando queste immagini immediatamente possiamo dire oh è un cerchio. Vogliamo fare un altro esempio molto famoso? Guardiamo il logo del WWF. Possiamo riconoscere tutti quanti un panda, ma il panda non è completamente disegnato, ne sono rappresentate semplicemente le parti nere ed è il nostro cervello che è in grado di elaborarli e riconoscere immediatamente un panda. Andiamo a vedere gli esempi pratici in cui questa regola di Gestalt trova applicazione in fotografia e come questi effettivamente ci possono essere utili a noi fotografi. In questa primissima fotografia abbiamo un insieme di vigne colorate da autunno ed immediatamente chiunque osservi questa immagine può riconoscere un paio di triangoli, almeno un paio di triangoli. È logico che l'osservatore della fotografia non va a pensare immediatamente i triangoli, ma il suo cervello è in grado di riconoscerli, il triangolo composto dalle vigne e dal cielo è il triangolo composto sempre dalle vigne e il terreno. E indubbiamente la sua attenzione, il suo subconscio sarà apposta su questi due elementi, su quello che si trova anche nei punti notevoli di un triangolo, come ad esempio potrebbe essere uno dei vertici. Cambiamo esempio adesso, andiamo alle isole Faroe guardando la cascata di Fossa. Anche in questo caso possiamo riconoscere immediatamente a colpo d'occhio almeno un paio di triangoli che sono dati da quelle parti scure al centro dell'immagine attraverso le quali scorre la cascata. Anche in questo caso la nostra attenzione è sicuramente rivolta verso di essi, il triangolo è una figura anche che permette tantissimo di attirare l'attenzione e di indirizzarle in una specifica direzione. Anche in questo caso il nostro subconscio riconosce gli elementi noti familiari e li riesce anche ad accoppiare fra di loro, vede più di un triangolo, hanno la stessa direzionalità e quindi li classifica come un unico elemento all'interno della fotografia. Cambiamo figura geometrica adesso, andiamo all'interno di una moschè e guardiamo il soffitto. Possiamo vedere un grande lampadario acceso attaccato al soffitto nel quale c'è una grandissima circonferenza, un grandissimo cerchio che è stato tagliato. Anche se il cerchio è tagliato, il nostro subconscio immediatamente sa che quello è un cerchio, anche se non rientra nella fotografia. E già se lo immagina e lo riesce anche ad associare al cerchio più piccolo sul soffitto al centro, proprio dove è appeso il lampadario. Sempre parlando di cerchi, guardiamo le scale a spirale del Fardecmühl in Bretagna. In questo caso l'elemento geometrico è molto più facile da riconoscere perché sono costruiti questi cerchi, quindi è facile riconoscerli. Ma anche qui l'attenzione viene assolutamente posta su questo elemento che riusciamo a riconoscere e c'è familiare. Facciamo un altro esempio sempre parlando di fari, in questo caso le Petit Menu in Francia, sempre in Bretagna. Guardate come il ponte crea una semicirconferenza che immediatamente riusciamo a riconoscere e c'è molto più familiare di tutti gli altri elementi un po' più caotici all'interno di questa fotografia. Poi dopo il fotografo non deve basarsi unicamente sul riconoscere o meno una figura geometrica, deve aggiungere altri elementi come il colore, la luce e tante altre cose di cui parleremo dopo. Però sicuramente riconoscere e sapere che c'è uno di questi elementi, che il nostro cervello molto facilmente riconoscerà, ci aiuta tantissimo per comunicare e incanalare il nostro messaggio in un punto specifico della nostra inquadratura. In quest'altro esempio di una fotografia scattata in Provenza invece non abbiamo più cerchi né triangoli, abbiamo delle figure geometriche molto molto squadrate, ma immediatamente guardando questa immagine riusciamo a riconoscere tre blocchi distinti, tre rettangoli distinti, che subito andiamo a classificare come tre immagini differenti della fotografia. Di primo acchito li riconosciamo istantaneamente, magari non siamo ancora subito in grado di attribuirli un valore o se uno è più importante di altri, ma di certo li abbiamo segmentati in tre sezioni differenti. Sfido io a un qualunque osservatore di questa immagine a venirmi a dire che questa fotografia è suddivisa in meno di tre parti. Ci sono poi dei casi in cui non è sempre così semplice riconoscere una figura geometrica, ma lo stesso, se anche soltanto la ricordano, il nostro cervello è uno strumento rapidissimo, velocissimo e potentissimo che è in grado comunque di fare consociazioni e associazioni completamente di figure che vagamente riconosce come tali. Guardiamo ad esempio questa finestra di una casba, indubbiamente ci ricorda anche questa vagamente un cerchio oppure un rettangolo. E anche se non è lei il nostro soggetto, verrà comunque riconosciuto, la nostra attenzione sarà comunque volta all'interno di questa figura, essendo l'unica riconoscibile. Un altro esempio è il monastero di Petra, visto in questa inquadratura. Qui riconosciamo più di una figura geometrica. L'arco che incornicia il nostro monastero raccorda vagamente una semicirconferenza, una circonferenza, mentre nella parte bassa della caverna abbiamo dei bordi molto squadrati e ci ricorda molto di più, ad esempio, un rettangolo. Infine il monastero stesso, quindi il soggetto vero e proprio della nostra immagine, è inclinato con una prospettiva tale da ricordare vagamente un triangolo. Quindi sono tutti elementi che nel nostro subconscio siamo in grado di riconoscere e sono una parte importante di come una fotografia viene composta. Prima di passare alla teoria successiva, guardiamo quest'ultima immagine, sempre di Petra. In questa immagine si vede attraverso un canyon una parte del tesoro, che è un monumento di Petra. Anche se ne vediamo una parte piccolissima, il nostro cervello sa già immaginarci che lì dietro ci sarà tutto il monumento. Sa già che muovendoci più avanti e spostandoci lo troverà comunque là in fondo e sarà molto più grande di quello che ci mostra semplicemente questa immagine. Questo ricorda moltissimo l'esempio del cerchio fatto in precedenza. Quindi anche se non vediamo la completezza, l'interezza di una determinata cosa, siamo in grado di immaginarci e supporre che essa esista. Un altro caso in cui la teoria di Gestalt ci viene in aiuto è per quelle che vengono chiamate teorie di somiglianza o anche di continuità. Sono in realtà due regole differenti ma le possiamo un pochino raggruppare assieme nel nostro caso della fotografia. E sono quelle che citano che noi siamo in grado immediatamente di riconoscere gruppi di elementi che hanno un qualcosa in comune. Può essere un colore, una forma, un valore, qualsiasi cosa. Facciamo l'esempio di questi insieme di pallini. Immediatamente siamo in grado di discernere che tutta una serie è di un colore e tutta un'altra serie ne è di un altro. Anche se sono tutti tondi delle stesse dimensioni, li classifichiamo, li segmentiamo in base a un valore, in questo caso il loro colore. Questo il nostro cervello lo fa costantemente anche all'interno delle nostre fotografie e tutti degli elementi che si assomigliano fra loro vengono automaticamente raggruppati e vengono considerati come un unico soggetto. Facciamo subito un esempio e guardiamo questa immagine con tutta una serie di sacchi colorati nella cittadina blu, Jeff Chawain in Marocco. Immediatamente il nostro occhio li riconosce tutti come sacchi di colori, uno a fianco all'altro e immediatamente vengono segmentati rispetto al resto della fotografia che è parte della città blu. Immediatamente non ci soffermiamo su ogni singolo sacco e sulle sue particolarità, riconosciamo l'insieme e lo raggruppiamo come un qualcosa di unico. Lo stesso possiamo fare in questa immagine di girasoli al tramonto. In questa fotografia troviamo tanti girasoli che immediatamente raggruppiamo come un unico elemento e lo classifichiamo come soggetto della nostra immagine. Questo perché non abbiamo più di un gruppo da segmentare, quindi stabilire se ha una diversa importanza. Qui abbiamo tutto questo gruppo di girasoli che viene assolutamente raggruppato per somiglianza di forma, di colore e anche di oggetto perché lo riusciamo a riconoscere. In questa fotografia di un paesaggio innevato con degli alberi troviamo la somiglianza in tutti i tronchi degli alberi, quindi elementi in cui non ce n'è uno particolarmente più importante dell'altro, uno che è il nostro soggetto prominente. Ma è loro insieme, loro essere tanti, simili, uguali per forma, colore e oggetto, in questo caso, fanno sì che il nostro cervello li riconosca immediatamente e riesca a porvi attenzione, dà importanza a questo elemento all'interno della nostra fotografia. Lo stesso accade in questa fotografia di Sossus Play. In questo caso gli alberi sono geometricamente diversi fra di loro, ma nel complesso dell'immagine vengono assolutamente classificati tutti uguali, ovvero come alberi scheletrici che si stagliano su qualcosa di rosso, possono essere delle dune, della sabbia, sapendo il contesto. Vengono tutti subito e immediatamente segmentati in un unico gruppo, anche se alcuni hanno forme diverse e sono posizionati in luoghi leggermente diversi all'interno del nostro fotogramma. Nell'immagine successiva vediamo delle dune di sabbia al tramonto nel Rubalcali. In questo caso qual è l'elemento che riusciamo immediatamente a riconoscere e classificare per somiglianza? Sono tutte le porzioni di queste dune che vengono illuminate dagli ultimi raggi del sole. In questo caso non sono vicini fra di loro nell'immagine, sono sparsi in giro, ma li riusciamo comunque a raggruppare, a classificare e riconoscere come un elemento diverso dal resto della nostra fotografia. Non è sempre detto che riconoscere elementi e raggrupparli per somiglianza sia così semplice e immediato. A volte possono esserci anche delle somiglianze molto più sottili, come ad esempio una somiglianza cromatica. Non cromatica come nell'ultimo caso che abbiamo visto delle dune colorate, ma è una cromia che si estende anche su oggetti molto diversi fra di loro. Ma il semplice fatto che vi sia continuità cromatica ci aiuta a raggrupparli e a considerarli come simili. Un esempio può essere questa fotografia scattata sul mare, in cui sia il cielo con queste nuvole belle cupe, sia la lunga esposizione sul mare hanno tutti un colore sul bluastro che ci comunica sicuramente una serie di messaggi. È uno stato d'animo che può essere diverso da quello che si avrebbe avuto ad esempio avere una fotografia con toni caldi. E in questo caso la continuità di colore in tutti gli elementi di questa immagine ci aiuta a classificarla, a raggrupparla e a far sì che nella nostra psicologia questi elementi stiano bene insieme perché sono considerati appunto simili. Lo stesso lo possiamo vedere in questa immagine di una montagna al tramonto. Qui gli elementi sono come significato molto diversi tra loro. Abbiamo una montagna illuminata, abbiamo delle nuvole nel cielo, quindi sono elementi molto diversi. Ma la continuità e la somiglianza cromatica è evidente di questi dolori caldi tendenzialmente arancioni che possiamo trovare in vari elementi della fotografia e saltano immediatamente all'occhio e vengono raggruppati come un qualcosa di simile fra di loro. Ricordati che a salvo casi molto particolari studiati delle baratamente creati, l'applicazione di queste regole è un qualcosa di molto sottile, che però può aiutarci tantissimo nel donare struttura alle nostre immagini e aumentarne significato o semplicemente convogliarlo anche in maniera differente. La prossima regola la chiamiamo regola di prossimità e ci indica come il nostro cervello è propenso a raggruppare fra di loro elementi che si trovano vicini fra di loro e non sono necessariamente simili. In moltissimi casi questa può essere anche una regola di somiglianza e ne è un caso questo esempio dove vediamo un campo di grano con un insieme di cipressi. In questo caso i cipressi sono fra loro anche simili per forma e significato oltre che colore, ma il semplice fatto che siano tutti raggruppati in un punto specifico di questa immagine ce li rende assolutamente più evidenti in un primo impatto di questa fotografia. Un altro esempio è questo autoritratto che mi sono scattato insieme al mio cane. Immediatamente il semplice fatto che noi due siamo riuniti vicini anche se siamo elementi abbastanza diversi, una persona e un cane, ci rende automaticamente un oggetto all'interno di questa immagine che si contrappone con tutto il resto che in questo caso è un paesaggio al tramonto. Un altro caso molto particolare che ci tengo a portare per parlando di prossimità è quando effettivamente i due oggetti posti vicini fra di loro non hanno nessuna relazione reale fra di loro. Ed è l'esempio di questa immagine di una ragazza che gioca con la luna. Immediatamente guardando questa fotografia vediamo come i due oggetti sono vicini fra di loro e crediamo subito che stiano interagendo gli uni con gli altri, quando in realtà sappiamo perfettamente che non può essere e non è così. È una questione di prospettiva che unisce e avvicina due soggetti che non c'entrano niente gli uni con gli altri e li fa sembrare all'interno della nostra fotografia un unico elemento, un unico soggetto, un unico posto in cui porre la nostra attenzione. Ed è lo stesso per ciascuna di queste fotografie in cui vediamo la persona, la ragazza, che sta interagendo, giocando con la luna in determinate maniere. E immediatamente, guardando queste immagini, li possiamo riconoscere come un unico elemento. La teoria di Gestalt menziona anche un qualcosa chiamato destino comune, ovvero siamo in grado di classificare e segmentare elementi all'interno di un'immagine quando riusciamo a riconoscere in essi un destino comune, ovvero una destinazione, un movimento comune. Questo è particolarmente adatto per le fotografie di soggetti in movimento, ma lo possiamo anche ritrovare in oggetti statici quando abbiamo un qualcosa che chiaramente ci indica una direzione, una sorta di linea guida. Riprendiamo l'esempio delle vigne visto inizialmente. In questo caso, oltre a riconoscere le figure geometriche, le vigne ci stanno assolutamente puntando il dito in una direzione molto precisa e quindi riusciamo a riconoscere che qualcosa di importante sta accadendo lungo la direzione. In particolare riconosciamo un paio di direzioni diverse, una da un lato, una dall'altro, che convergono in un punto della nostra fotografia. Un altro esempio di linea guida che ci sta indicando una direzione è l'agriturismo baccoleno in cui abbiamo la famosissima strada circondata da cipressi. In questo caso abbiamo proprio una strada che ci sta dando un'idea di destinazione, con tutti i cipressini che la corniciano. Il nostro occhio sarà assolutamente portato a immaginare questa idea di direzione e a raggruppare assieme tutti gli elementi che convogliano in questa stessa direzione, che possono esserci oppure no. Anche questi altri cipressi di Poggio Covili sono assolutamente tutti quanti indirizzati in una direzione molto precisa e il nostro occhio riuscirà a classificarli e segmentarli come un unico elemento. Cambiamo soggetto e guardiamo questa immagine del monastero di meteora in Grecia. In questo caso l'idea di movimento e di destino comune ci viene data dalla scalinata illuminata, che ci fa immediatamente segmentare questo soggetto dal resto dell'immagine, dal resto del monastero, delle rocce o di tutto il resto. Subito siamo in grado di riconoscere questo elemento e classificarlo in maniera differente da altri. Anche l'esempio visto precedentemente del faro di L'Epetit Minou con il ponte che ci sta spingendo all'interno della nostra fotografia ci dà un'idea di movimento e di direzionalità all'interno della nostra immagine. Il fatto che venga posto il faro vero e proprio molto piccolo alla fine di questo sentiero ci fa assolutamente arrivare lo sguardo in quel punto. Guardiamo l'immagine di queste due esterne che stanno tutte e due voltate e indirizzate verso la medesima direzione. Siamo assolutamente in grado di immaginarci che sta succedendo qualcosa da quella parte, magari stanno per volare oppure stanno osservando qualcosa che sta accadendo da quella parte lì. Quindi creare una composizione che permetta ai nostri soggetti di guidare il nostro sguardo nella direzione che stanno guardando loro, nella direzione del loro destino, è un elemento molto potente per quanto riguarda la fotografia. Se avessi creato la medesima immagine scattata in questa maniera, quindi con poco spazio davanti a loro nella direzione in cui stanno guardando, ma lasciando il più spazio dietro, sarebbe stata una fotografia molto meno efficace, perché avrebbe escluso dalla nostra immagine la direzionalità, avrebbe escluso dalla nostra immagine la direzione e la direzionalità al destino comune di questi due elementi, di questi due soggetti all'interno della nostra fotografia. Soggetti che, ricordatevi, sicuramente classifichiamo come un unico elemento, ovvero due starne, un gruppo di uccelli che stanno guardando nella stessa direzione. Per concludere, finiamo con due giraffe. Anche queste sono orientate dalla stessa parte, in procinto di muoversi verso una direzione. E questo ci guida automaticamente la nostra attenzione dalla parte di fotografia verso la quale anche i nostri soggetti stanno tendendo. Se le giraffe fossero state voltate in maniera differente e non uguali fra di loro, avrebbe sicuramente trasmesso un messaggio differente, in cui sarebbe venuta meno l'idea di attività, di movimento, di destino comune a cui vertono questi nostri soggetti. Per concludere, vediamo un altro concetto espresso dalle teorie di Gestalt, che forse è uno di quelli che riconosciamo più spesso anche all'interno della fotografia, ed è il concetto di sfondo e soggetto. Il nostro cervello è immediatamente in grado di riconoscere all'interno di una fotografia quello che viene classificato come un determinato soggetto e tutto quello che non è il nostro soggetto. Vengono segmentati in due porzioni differenti che vengono chiamate spazio positivo e spazio negativo, ovvero spazio positivo è tutto quello che è il nostro soggetto e spazio negativo è tutto quello che gli sta intorno, tutto quello che non è importante quanto al nostro soggetto. Una di queste tecniche è proprio la profondità di campo ristretta, che è estremamente popolare in fotografia, uno degli elementi più noti in assoluto. e questa permette facilmente di staccare il nostro soggetto dallo sfondo, quale esso sia, sia più o meno importante, meno caotico, di sicuro immediatamente osservando la fotografia possiamo asserire che un determinato oggetto, quello che è l'interno della profondità di campo, è più importante di tutto il resto. E lo vediamo in tutti questi esempi, quindi lo vediamo nei ritratti del cane come lo sfondo è assolutamente meno importante, è una macchia colorata, oppure anche nel fungo come è lui il re della fotografia e tutto il resto che si sta intorno a di contorno è descrizione, aiuta comunque a convogliare il messaggio ma non è il soggetto principale della nostra attenzione. Quando la teoria di Gestalt parla di soggetto e sfondo non indica sempre lo sfondo lontano in una fotografia, è semplicemente una distinzione fra elemento più importante e principale da elemento considerato meno importante. E un altro strumento per farlo ad esempio è il contrasto. L'utilizzo di parti molto chiare e molto scure ci permette di avere un netto stacco e una netta distinzione fra gli elementi della fotografia, come ad esempio in questa duna di sabbia in cui abbiamo una parte che è quasi completamente nera e una parte colorata. Siamo propensi ad attribuire più significato alla parte colorata, quindi classificarla come spazio positivo mentre la parte nera come spazio negativo. È indubbio che chiunque osservi questa immagine immediatamente riesce a segmentare due elementi all'interno di questa fotografia. Oltre al contrasto tonale anche il contrasto cromatico funziona veramente bene per disteccare un elemento rispetto a quello che gli sta intorno. Ed è un esempio lampante questa frasca di foglie colorate in inverno quando tutto il paesaggio che le circonda è privo di colore o comunque sia sulle tonalità fredde e bianche e non certo calde e arancioni come le foglie. In questo caso il soggetto non ha un particolare contrasto tonale, quindi non è particolarmente più chiaro, più scuro di quello che lo circonda, anzi circondato dalla neve, ma la contrasto di cromia immediatamente ce lo fa immaginare come un qualcosa di diverso, un qualcosa che attirerà la nostra attenzione. Infine un altro elemento che ci permette di enfatizzare questo concetto di sfondo soggetto è l'isolamento vero e proprio del nostro soggetto, non più ottenuto grazie alla profondità di campo ma proprio allontanandolo fisicamente da altri elementi di disturbo, altri elementi che non reputiamo così importanti della nostra immagine. L'isolamento è uno strumento veramente potentissimo e in questi casi non abbiamo dubbi su quale sia la parte positiva dell'immagine, quale sia lo spazio negativo, che ha come unico scopo quello di isolare il nostro soggetto, di renderlo più lampante all'interno delle nostre fotografie. E ne sono dei chiari esempi queste immagini, ad esempio di una giraffa oppure dello struzzo o anche soltanto di una piccola nave solitaria nella vastità del mare. Subito il nostro occhio cade su questi oggetti e ne riesce immediatamente a capire l'importanza rispetto a tutto quello che li circonda. Con questo abbiamo finito di trattare l'argomento teoria di Gestalt e queste che ti ho raccontato sono solamente alcune delle regole che vengono trattate e sono quelle che io reputo più utili, più facili da applicare nella fotografia o quantomeno nella fotografia che pratico personalmente. Non è assolutamente detto che valga lo stesso per te, magari leggendo le varie regole di Gestalt ne trovi qualcun'altra che per te è fondamentale oppure funziona molto bene con il tipo di fotografia che fai tu. Sicuramente reputo che conoscerle sia di aiuto per il fotografo perché puoi iniziare a ragionare, a pensare e decidere se applicarle o meno nella propria fotografia. Se ti è piaciuto il video lasciami un like qua sotto e considera anche di iscrivervi al canale. Mi raccomando ricordati anche di attivare le notifiche così non ti perderai tutte le prossime uscite. Come al solito per qualsiasi dubbio o curiosità fammelo sapere qua sotto nei commenti oppure scrivimi un'email e cercherò di risponderti al più presto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!